Il mondo del lavoro e della produzione è in profonda trasformazione. La tecnologia italiana affronta questa sfida mettendo in campo eccellenze nell'intelligenza artificiale integrata alla robotica. Con queste tecnologie è possibile generare una mappa tridimensionale degli spazi di lavoro, arricchita in tempo reale dai dati provenienti da apparecchiature, strumenti e dispositivi. I sistemi di visione artificiale trasformano immagini bidimensionali dell'ambiente in nuvole di punti, ottenendo descrizioni accurate e sempre aggiornate degli spazi produttivi e di ciò che li occupa. Gli operatori, rappresentati dal sistema con nodi e linee, sono accompagnati durante le loro attività, consentendo di regolare le presenze, nonché gli accessi in zone interdette o aree pericolose. L'Italia possiede moltissimi laboratori ad alta specializzazione. La loro evoluta gestione tecnica garantisce massima espressione produttiva e tempestivo ripristino in caso di blocchi o danneggiamenti. Il monitoraggio delle presenze consente di gestire dinamicamente i servizi a supporto della persona, per esempio l'illuminazione, garantendo condizioni di lavoro salubri, efficienza e sostenibilità. Gli smart environment rispondono alle necessità introdotte dall'adozione del lavoro agile, per esempio aiutando il lavoratore a trovare rapidamente una postazione libera, nonché ottimizzando la gestione delle emergenze e delle evacuazioni. Intelligenza artificiale e robotica si integrano in un ecosistema completo. In questo esempio, al sistema è affidato il compito di monitorare l'equipaggiamento degli operatori. Se inappropriato, R1, robot umanoide frutto della ricerca e del design italiano, interviene automaticamente a supporto del lavoratore. Il machine learning supporta l'automazione industriale non solo nel pick and place, ma anche nel controllo qualità di prodotti ad alta variabilità, direttamente in filiera e senza interruzioni. Nell'industria automobilistica, queste tecnologie trovano massima espressione, per via della precisione richiesta, della numerosità dei processi e della complessità di distribuzione. In Italia, gli algoritmi di intelligenza artificiale ottimizzano la logistica su vasta, media e piccola scala, con risparmi di tempo ed energia. In settori strategici, come quello agricolo, promettono un impatto fortemente positivo su qualità del prodotto e sostenibilità. Italy. A tradition of innovation. Italy. A tradition of innovation. responsabile. Sì. Grazie a tutti.